Ti auguro una bella e santa giornata anche in queste condizioni restrittive in cui tutti ci troviamo e vorrei pregare un momento con te anche indicarti alcuni esercizi che puoi ripetere anche nella preghiera personale quando lo ritieni. Ecco tre semplici introduttori, già li conosciamo e uno è nuovo e si basa su una parola del Vangelo di Marco che ti indicherò. Ecco il primo esercizio è questo segno della croce nella forma solenne con cui noi vogliamo ribadire, rinnovare la nostra decisione di vivere con Dio, col Dio di Gesù così come l'abbiamo conosciuto, una trinità d'amore che si manifesta soprattutto nell'operato di Gesù. Nel tuo nome o Padre che mi hai generato, ripetiamo, o Figlio che mi hai redento, o Spirito che mi porti a santità, voglio vivere sempre specialmente questo tempo di prova e di grazia. Amen. Rinnoviamo l'affidamento al Signore con questo breve ritornello. Se vivi il nostro Padre, noi ci affidiamo a te. Se vivi il nostro Padre, noi ci affidiamo a te. Ecco, lo ripetiamo mettendoci intenzionalmente nel cuore di Gesù, perché questa è la sua preghiera per eccellenza, questa fiducia immensa. Lo vedremo anche nel passo che mediterremo. Gesù anche nelle tempeste, nella grande tempesta della sua passione e morte, ha avuto fiducia piena nel Padre che ha promesso. Il terzo giorno ti farò risuscitare. Se vivi il nostro Padre, noi ci affidiamo a te. Se vivi il nostro Padre, noi ci affidiamo a te. L'ultimo breve esercizio è l'invocazione allo Spirito Santo per chi è del dono della santità. In questo tempo difficile abbiamo bisogno di una maggiore invocazione dello Spirito Santo e di una maggiore attenzione alle sue ispirazioni, perché è proprio lui la sua forza che cambierà in un grande bene. Ebbene la prova, forse la più grande prova della nostra vita. Spirito di santità, fammi santo, presto santo e grande santo. Ripetiamo due volte. Spirito di santità, fammi santo, presto santo e grande santo. Spirito di santità, fammi santo, presto santo e grande santo. Adesso invece andiamo all'esercizio nuovo che prendo eccezionalmente dalla meditazione che il Papa ha fatto venerdì scorso 27 di marzo in piazza San Pietro. Probabilmente alcuni di voi, molti di voi l'avranno vista. è una presenza impressionante, perché non solo il Papa che pregava, ma tutta la grande piazza che siamo abituati a vedere, gremita di folla, era vuota, totalmente vuota. Ecco, vediamo come il Papa anche cerca, cerca iniziative per essere vicini alla gente, per istruirla e soprattutto per pregare e per benedirla. Ecco, anzi prendo occasione di indicare a chi è capace attraverso internet di recuperare il video oppure anche il testo scritto di questa bellissima meditazione, basta digitare, il Papa Francesco, preghiera del 27 marzo. Ecco, e di questa preghiera prendo spunto per questa breve meditazione, è partita dal racconto della tempesta sedata che si trova in tutti e tre gli evangelisti sinottici e è stata letta nella versione di Marco alla fine del capitolo 4. C'è il racconto che Gesù ordina di passare dall'altra riva e durante questa traversata scoppia una terribile tempesta che sembra far affondare la nave mentre lui, tranquillissimo, dorme, dorme sulla prua della nave, alla prua della nave e poi i discepoli allarmati lo svegliano e gli dicono non ti importa che noi moriamo tutti e Gesù si alza, sgrida al vento e subito si fa una grande bonaccia. Poi Gesù fa una specie di rimprovero ai discepoli, dice perché avete paura? Non avete ancora fede? Ecco, questo rimprovero di Gesù rivela il senso anche della prova che noi attraversiamo, delle prove morali, spirituali della vita, che sono una sfida di fede e una via per accrescere la fede. Questa parola di Gesù anche rivela un dinamismo profondo del nostro cuore che è quello della paura. Quando c'è un pericolo noi abbiamo paura e questo è anche naturale, però Gesù anche dice che questa paura è inversamente proporzionale alla fede che abbiamo. Più abbiamo fede in lui nella sua potenza, meno è la paura. Più siamo senza Dio perché non lo cerchiamo, non crediamo e più la paura aumenta, aumentano i calcoli, aumenta l'appoggio nelle cose umane che alla fine vacillano, alla fine vacillano e mostrano i loro grandi limiti. Ecco, quindi approfittiamo di questa parola del Vangelo che possiamo anche rileggere a casa per conto nostro, ripeto alla fine del capitolo 4 di Marco e poi meditare come Gesù c'è nella barca, anche quando noi lo vediamo inattivo, stava dormendo, Gesù c'è, Gesù c'è nella barca della nostra vita. Noi anche possiamo svegliarlo per le nostre tribolazioni, con la nostra preghiera e poi lui interviene, spegne la tempesta, spegne la tempesta. Oggi si innalzano tante preghiere perché questa terribile epidemia si spenga il più presto, ecco è giusto farlo, è giusto farlo. Nel frattempo però anche dobbiamo spegnere la tempesta che nel nostro cuore, una tempesta di paura, a volte di chiusura in noi stessi, di egoismo. Ecco, Gesù è capace di spegnere anche questa tempesta, lo dobbiamo invocare e dobbiamo affidarci a lui, affidarci di lui, che è sempre con noi, specialmente nell'ora della prova. Ecco, diciamo così, vieni Signore nella barca della mia vita, vieni Signore nella barca della mia vita e spegni ogni tempesta del mio cuore, e spegni ogni tempesta del mio cuore. Per questo ti benedico, il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Padre Santo ti ringrazio perché ci dai il modo di vivere ancora insieme sulla terra e di ascoltare la tua parola, di rivolgerci a te. Ti affido la vita dei tuoi figli. Tu solo, Signore, conosci il loro cuore, conosci la loro mente, conosci le loro paure, conosci la loro solitudine. Ti chiedo di stendere ora il tuo braccio potente, di sgridare con la tua grazia, i sentimenti di morte, i sentimenti avversi che possono svilupparsi nel loro cuore, perché possano godere la tua pace, vivere in una grande serenità questo tempo di prova. Ti chiedo anche di aprire gli occhi di ciascuno e verso le persone che sono loro accanto, per poterli servire, magari in silenzio, essere di aiuto. Una parola buona, un sorriso, una parola di incoraggiamento, e per questo li benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ecco, voglio anche aggiungere un pensiero ancora che ho sempre preso da questa meditazione del Papa. Lui ha detto, nessun allarmismo e molta responsabilità. Ecco, questa parola mi ha fatto pensare, diciamo, a un vizio brutto che a volte si sviluppa nelle nostre famiglie, anche nelle nostre comunità. Cioè, parole di pessimismo. Un vizio brutto dire parole di pessimismo, di scoraggiamento, di aumento del male, che già è tanto. Ecco, questo non va bene, questa è una mancanza di intelligenza e anche di bontà, diciamo, perché gli altri già sono provati. Se noi facciamo discorsi pessimistici, li seppelliamo, li buttiamo giù. Ecco, invece noi, con verità, dobbiamo dire parole di speranza, di fiducia, di incoraggiamento. Ecco, perché questa è una forma grande di carità e anche di responsabilità. Fare bene la nostra parte, affidarci al Signore, non preoccuparci affatto del domani, perché il domani ci pensa il Signore, non sappiamo come sarà. Noi siamo responsabili di oggi, vivere bene oggi, come se fosse l'ultimo giorno prima di entrare in paradiso, prima di vedere Dio faccia a faccia. Ecco, per questo ti auguro una santa giornata. Grazie. 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 Grazie.